Una nota di poche righe per comunicare che Salvatore Brucculeri, quando mancano appena quattro giorni all'inizio del campionato di Serie D, non è più l'allenatore del Gela. È stato sollevato dall'incarico di guida tecnica della prima squadra. Sembra di stare su scherzi a parte, ma è la cruda e nuda verità. Brucculeri, l'allenatore che in due anni ha conquistato altrettante promozioni con il Gela, da oggi non fa più parte del club bianco-azzurro. Lui, che ha seguito dalla vicenda devastante e che ha interessato il Gela Calcio in questi ultimi giorni, aveva esortato i tifosi a stare vicino al club e ha invitato chi li copre i ruoli istituzionali a fare il possibile per non fare morire una creatura che domenica, dopo domenica, regala un sorriso. Tutto ci aspettavamo, ma che si arrivasse a questa conclusione, no. Anzi, per dirla tutta, non ce l'aspettavamo proprio e siamo sicuri che non se l'aspettava nessuno. Al momento attuale, a quattro giorni dall'inizio del campionato, con la trasferta di Pomigliano d'Arco, il Gela non ha un allenatore, non ha Brucculeri. Proprio in questi giorni, esattamente sabato 27 agosto scorso, in un momento assai difficile per la società bianca-azzurra, il tecnico si è rappresentato dinanzi alle nostre telecamere, esprimendo vicinanza alla dirigenza e ribadendo amore incondizionato a Gela e al Gela Calcio. Cosa si è accaduto nelle ultime ore rimane attualmente un mistero. Intanto già si fanno i primi nomi per la successione. Si parla di Fufo Ammirata e di Danilo Rufini.